Ciao, mi chiamo Matteo Gasparini. Il mio ruolo in Helmat è Business Developer Manager nella Cyber Security per il brand WatchGuard. In questo periodo, così delicato e difficile, ho voluto girare questo breve video per dirti che anche noi di Helmat, in qualità di distributore delle soluzioni WatchGuard, non ci fermiamo e rimaniamo al fianco dei nostri partner per garantire la continuità del business rimanendo operativi. In breve voglio anche raccontarti come posso aiutarti. Quotidianamente, in questo periodo di smart working, cerco di creare e mantenere i rapporti con i clienti, supportandoli e fornendo loro soluzioni ai loro bisogni e alle loro richieste, lavorando in team. Non potendoci incontrare dal vivo in questo difficile periodo, stiamo sfruttando molto l'utilizzo del telefono e delle piattaforme web, attivando webinar dedicati che ci permettono di continuare ad offrirti vari servizi, tra i quali la condivisione di progetti al fine di individuare assieme il prodotto corretto, mantenerti aggiornato nelle promozioni WatchGuard in vigore, fornirti le suite di rinnovo e le nostre offerte in tempi brevi, invitarti a incontri come tavole rotonde online per mantenerti informato e per formarti, offrirti il nostro supporto pre e post vendita. Ti invito inoltre a visitare il sito internet di Helmat e la pagina YouTube di WatchGuard Italia, al fine di dedicare questo periodo per restare aggiornato e per prepararti e vedrai che questo nostro impegno di oggi ci ripagherà domani con nuove opportunità. Per metterti in contatto con Helmat puoi accedere al nostro portale web o chiamarci al numero 049 76 23 011. Ti aspetto! Ciao da Matteo!